sabato epoca titola 1978 l'anno di moro noi quando viene rapito moro il numero 3 del male abbiamo un disegno bellissimo suo in cui c'è la faccia di moro a cazzo proprio no ma è casualmente era quindicinale moro viene rapito quando c'è questo numero in edicola no e poi c'erano un paginone dove avevamo fatto come come si dice gli indovini no le mani di tutti i politici ce ne erano diverse e sotto c'era letto lette le linee il futuro di questi politici politici letto attraverso le linee del palmo delle mani no tra l'altro la mano di moro che c'era era la mia purtroppo e sotto tra le altre cose c'era una grata disegnante c'era scritto sarà presto incarcerato devo dire non era scritto soltanto in quella di moro era scritto anche in quella di altre mani di politici il fatto è che proprio quando il giornale era in edicola moro fu rapito no per cui si scatenò il bailam addirittura l'unità loro sapevano grazie a tutti grazie a tutti